Peccato, potevamo iniziare riprendendo un balletto di Enzo Nicolella in questa amichevole tra Invictim e l'atletico Tarantella, salutiamo Tipaldi, dicevamo dell'Invictim la squadra di Capitana Moscatello che anche in questa amichevole, salutiamo anche l'esordio di un nuovo signor arbitro qui al Panetta Calcio con il direttore Nicolella che lo guarda e scruta l'operato del suo nuovo arbitro, dicevamo della partita, c'è un fallo, se lo sente, anzi no, norma del vantaggio, chiediamo scusa con la conclusione che viene messa in laterale a fianco a fianco Tarantella, questa anno faccio vincere anche i maltesi, attenzione, dichiarazioni pesanti di Capitano Iuliano dopo il double cerca il triplete almeno sul piano personale, la laterale che va a battere in avanti l'atletico Tarantella, valla ancora in calcio d'angolo Moscatello lo vediamo lì largo che cerca di sfruttare un'eventuale ripartenza dei suoi, ancora la battuta dal calcio d'angolo, ancora la palla che va fuori, sempre rimessa laterale, sempre in avanti le Tarantelle che rischia l'attenzione di Moscatello, intercetta il pallone, può anche provare a recuperarlo, la laterale è a favore comunque dei ragazzi in maglia verde e bianca dicevamo comunque dell'invictim che non ha il portiere di ruolo, qui c'ha Head, si allunga il pallone, la palla va sul fondo quindi dicevamo, dividiamo tra i pali infatti di Palma va Iuliano a parlare un po' con Nicolilla per capire chi fosse il nuovo arbitro qui in campo Moscatello, palla che viene allontanata, ancora Iuliano si inserisce, sempre Iuliano, Iuliano, Iuliano fa tutto lui, galvanizzato forse anche dalle videocamere perde il pallone, anzi Schaed lo riconquista, il numero di Schaed che va via, da avere un fazzoletto poi non riesce però il compagno Tipaldi a riconquistare il pallone nel frattempo l'attesico Tarantelle va ancora in avanti, Schaed chiude tutto, recupera Iuliano gli dà una mano in disimpegno, potrebbe anche lanciare lungo Tipaldi alla fine si appoggia dal portiere, il lungo rilancio a cercare Tipaldi, non arriva sul pallone allora seguiamo ancora un'ultima battuta prima di interrompere il nostro collegamento dicevamo amichevole, la settimana prossima infatti parte ufficialmente la nuova stagione del torneo San Nazaro 2012-2013, tante le squadre, tante le novità questo è uno dei protagonisti in Serie C, il tanque Cerro a breve finale per lui in Serie B Schaed prova ad andare, da solo viene fermato, vince un rimpallo, Moscatello viene fermato anche lui la palla che viene ritata in avanti, ancora Moscatello, Tipaldi non si inserisce la palla che viene messa fuori, allora laterale, chi seguiamo prima di chiudere il nostro collegamento potrebbe esserci infatti un'azione pericolosa per l'invictim Moscatello va a riconquistare questo pallone, batte la laterale Moscatello va scucchiaiata per Schaed, il numero di Schaed, blocca per il portiere avversario allora noi chiudiamo qui il nostro collegamento, 0-0 il parziale è un'azione per l'invictimazione